Quinta vittoria, forse la più faticosa delle scie? Siamo in una buona posizione. La prossima a Roma in condizioni imprevedibili? Sì, guarda, andiamo là, saremo ancora un pochino più stanchi, però avremo tanto cuore, perché questa squadra ha tanto cuore, lo sta dimostrando. Penso che il pubblico si stia divertendo in tutta Italia e anche noi si stiamo divertendo molto a vedere come ci segue la gente. Quindi è una bellissima cornici di pubblico, è bello così. La partita al fuori Italico, come te l'aspetto? Eh, guarda, la partita al fuori sarà una partita diversa da tutte, perché è la prima volta che si gioca al fuori all'aperto, quindi sarà un'emozione grandissima e speriamo di coronare con una bella vittoria.